Questi sono giorni che riveleranno molto del nuovo Civitavecchia Calcio. Dopo il momento di magra dei giorni scorsi che ha portato ad un nulla di fatto per il calciomercato nerazzurro, l'attuale settimana potrebbe rappresentare un momento di svolta per il gruppo sostenuto dal nuovo allenatore Stefano Manelli. Finora il club del presidente Patrizio Presutti ha annunciato un solo giocatore nel roster, il difensore Gianmarco Carta. Ma dal quartier generale del Vittorio Tamagnini giungono novità che attireranno l'interesse del pubblico nerazzurro. Infatti in settimana saranno ufficializzati gli ingressi del centrocampista Federico Sevieri e del portiere Gianmarco De Clementi. Le trattative per il loro approdo nel gruppo capitanato da Luigi Ruggero sono state completate da tempo e si attende solo la firma sul tesseramento per le foto di rito. Nessuna novità invece per quanto riguarda la pista più calda delle ultime settimane, quella che potrebbe portare all'accordo con il difensore Tommaso Tamburlani. Le percentuali per l'arrivo del giocatore in città sono scese. Monitorando e valutando altri profili con cui, in caso di primo approccio positivo, intavolare delle trattative. Sono due le settimane che mancano al primo giorno di preparazione atletica, per cui in caso di mancate nuove ufficializzazioni, il Civitavecchia potrebbe presentarsi al 31 luglio ancora con qualche casella da occupare. Al momento è difficile prevedere se sarà questo l'esito, in quanto il calciomercato è sempre ricco di sorprese. Tutto può mutare nel giro di poco tempo, cosa decisamente riscontrabile sia nel calcio nazionale che in quello regionale. Di sicuro il DS da Ponte sta cercando di lavorare senza lasciare troppe tracce sul proprio terreno. Questo aumenta la curiosità per capire quale direzione stia prendendo il Civitavecchia e se ci potrebbe essere la possibilità di vedere qualche nome importante e utile alla causa per abbellire ancora di più la formazione di Manelli. Solo il tempo chiarirà ogni aspetto con il countdown per la preparazione atletica che può ufficialmente iniziare.